Per rimettere a posto tutto mi ci vorrà due o tre secoli ragazze, buongiorno, buon Natale ragazze a tutti voi, buon Natale, buon Natale, eccoci qua, ieri sera abbiamo fatto un pochino più tardi che c'era le fiaccole, si è fatto proprio tardi la notte, insomma, sono un po' rimbambita, mi sembro l'orco. Oddio, 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 allora, niente io inizio a fare colazione ora, poi se ce la faccio volevo dar una sistemata, ora accendo anche la stufa perché mi fa freddo, accendina qui. Il mio pandoro piccino bruttino. Bri, vai in quell'altra seggiolina, eh, ma non lasciamo qui tutte queste buste, dai Brice, su, tutte queste borse, oddio, oddio, queste figliose, queste borse in giro. E quindi, allora, com'è andata questa vigilia vostra? Noi oggi siamo di festa, c'è doppia festa perché sono, fa 60 anni Laura, oggi è il compleanno di Lallo, oltre al Natale, ecco, domani è il compleanno di vita, oltre che Santo Stefano, quindi siamo doppie feste. Faccio colazione solo da voi, intanto vi lascio. Allora ragazze, io sono pronta, mi sono messa, il vestitino quello lì del battesimo della Emily, quindi, oddio, ma un suo a fuoco. Ecco, quindi l'avete già rivisto in altre occasioni, che è di lanina, sto più calda così. Ho fatto un trucchettino semplice, semplice, con la palette Kali, quella con gli ombretti, quelli lì, più sul naturale. Ho messo solamente una linea di eyeliner e sulle labbra ho messo il rossettino che mi ha regalato Federica, della Leo Makeup, che è quello lì, color cioccolato. Niente di che, proprio semplice, semplice. Emily Leone dorme, ora io intanto sistemo un pochino più, intanto aspetto le ragazze e Lallo che... Ma oggi è il compleanno di Lallo, ragazzo, dimmi tepino. Buongiorno. 60 anni. Ehm, vabbè, dai, ci sentiamo. Ragazzi, eccoci in macchina. E niente, e ora partiamo, andiamo là. E la Dani vengono dopo, la bimba. Allora, ora, niente, rimettiamo, siamo andati su un piazzetto e rimettiamo la transenna perché, insomma, non ci devono andare sulle macchine. C'è questa cosa, c'è tutta la fiaccola. Quel cosina a Daniela gliel'hai preso? Ecco. Allora. Spichiamo di chi sono. Eccoci arrivati. Allora. Uh, guardate, è bella tavola. Tutta imbandita. Tutta imbandita. Che bella. Stai a fare video? Proprio mi dispiace. Pollo ripieno, ragazze, guardate, è spettacolo. Eh, a porchetta ci ve lo fa il coniglio, ma dopo quella non lo mangia. Quella non lo mangia. Queste di Emily. Quell'altro non lo mangia. Eh, beh. Io le cavo te la dà. Buon Natale! Amore, sì, ce l'ha sotto la sciarpa. Che bella! Buon Natale! Buon Natale! Come stai, amore? Ti ha dato noia? Eh? O una donna benedetta. Fanno... Ma chiamate... Su WhatsApp mi sembra che ci deve essere morti in cellulare perché... Ah, deve essere morti. Eh, ha vomitato. Ha vomitato, vedi? Sì. Sì. Come andrà? Uh, pulisci, te la pulisci. Il giardino. Oh, tutto nel vestito. Ci viene a botto. Eh, per chi mi tocca la piano perché lei... Ma come sei bella. Pulisci la bocca. Guardate quante cosine, mamma mia, quante cosine buone. Questo è fatto con il mio di pane, vedete, è più scuro rispetto a quello loro che è quadrato. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Boccia. No, volevo dir... Vedete, guarda un boccia. Mamma, è la Lorenzo. Che stava avvicinando. Che stava avvicinando. Che stava avvicinando. Oh, me. Che stava avvicinando. Che stava avvicinando. Allora, prima mi si brinda. Lasagne, che ci fa bene, ci scalda lo stomaco, ragazze, ci scalda un po' lo stomaco. Sì, perché apre lo stomaco. Eccoci. Allora, lasagne. Chi lo rivale il prosietto? No, io no. E lasagne mie. Le mie lasagne. Queste sono le tue, te le sforino. E senza mettere quella sfogliaccia, guarda, che schifo che fa. Sì. Almeno è pasta, è buona. La pasta è l'unica cosa che è buona. Le lasagne, mamma, glielo volevo prendere la pasta, ma fa schifo quella pasta. Sì. Fa schifo proprio. Invece la pasta questa. Sì, è tutta un'altra cosa. È pasta, è buona. Di Emily. Invece dopo l'ho saputo che è una cosa proprio tua di loro. Ma perché sta venendo? Che c'è Emily, eh? Come me con la stracciatella della timata o con i peccatori. Il regalino di Natale, di Babbo Natale. Babbo tale, come dice me, Babbo tale. I regalino. Oh! Oh, bebe! Chi è? O che la faccia qui? Vieni! Sì! Eccolo! I regalino. I regalino. I regalino? O chi te l'ha portato? Papo? Nata? Aspetta, amore, aspetta. Vieni, dove? Allora, ora si non c'è un coso. Oh! Girelo da male. Oh! Mamma, ieri la felicità. Oh! Eccolo la bellina! Oh, che roba è? Oh, bebe! Di me è questa, di mamma? Bebili! Bebili! Che devo fa'? Bebili! Bebili! Apri, si dice, no bebe. Api, come amore? A te glielo dici, api? A tutti glielo dici, api. A me bebbe! Apri, come amore? Apri! Ah, è figa di baragnosta lei! Non è figa di normalità. È vero? C'è la stana. No, quello uncima, il nostro tenero è grasso. Eh, va bene. Il fuoco, bebbili, non prende il fuoco. L'arrivamo? Emi. Senta, senta. Emi. Che è? Nonno. Nonno, sta boccito. Ah, non la chiudiamo? No. Come gli cantiamo al nonno? Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, nonno. Lallo, tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Basta, amore, sei arrivato all'osso. Mangialo qui, tirato. Dopodomani carico che lo educasse delle cose e le porto sui gnocchi. Ecco la cicciagnamigna. Ecco la cicciagnamigna. Mi prende proprio questo e non mi prende quello. Che palle. Dove non c'è il fegato? Ah, perché ma questo gli piace? No, ma dammi la metà che almeno lo mangiamo Ragazzi, e allora? Aspetta, dai un fegatini Giri, ci è contenta a tutti Aspetta a tutti Eh ragazzi No, 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 no Invece di farli... C'è la bua ciccio bello Ah, vedi ora beve Beve, vedi là Uh, ma questo che è il latte Uh, vedi l'aria è accascato il tappo Vedi il tappo Gli è uscito Io mi faccio cuocere amore Qua che gli fanno la puntura Uh, senti che piange Senti che piange O dove è la puntura? Qua La rubrica c'è tutta da sola Eh, vedi Quanta buona Ma hai finito e ti ci sb... E' più buono Quanto è rotto Hai visto quando c'era il pò fuori, è vero? Ma se era buono non puoi mai mangiare Si, lo mangio Lo pippavi perché che ci facevi? Ascolta, noi ci facevo molto Con un pallino da quanti ne vizzi ci lasciò il maiale Guarda che è una puzzona Sei una puzzona Ti fai la bua così Guarda, guarda, guarda Ti pare di incollarla Tanti aguri A te Come cantiamo? Tanti aguri A te Vai Ah, maiale Poi la giulata Ecco la crema Aspetta, aspetta Arrumpiamo e ce lo rimetti dentro No, no Nonno la Con la marmellata La lillo Tanti aguri A te Come cantiamo? Cantiamo No, è solo su Quanta tre Quanta tre Quanta due Non è per due Ma chi? Non definisci tre 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 No Aspetta che porta la torta La nonna Aspetta un momento Vieni con il nonno Vieni con il nonno Spegniamo le candeline Vieni Non canti con il nonno Amore Non canti con il nonno Fai la falsa, piccinina Dai zia Dagli un borsa Dai Dagli un borsa Vieni 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 Se no non ci spicciica mica Fammi vedere Reggi Un po' L'ho lavata Ma con la mano sola Eh E lascia la mettere a sopra il cartone Che buono che sia Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri nonno Lallo, tanti auguri, ma metterlo là no la candelina, tanti auguri, Poi via piccinino, perchè? Eh, le fragoline ci sono, c'è le fragoline, eh sì, per me, un attimino, poi tu potrai fare quello che vuole, piccina, vieni qua con la nonna, con la nonna e la zia, vieni. Ci vieni con la nonna e la zia? Sì, non è stata male, qua, 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 dammi il ditino. Ci prepara niente, eh, mi disse Mirko, quando veniamo là. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a nonno Lallo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tante auguri a te, tanti auguri a te ma. bravo bravo libera dai un'altra volta via dai accendi l'albo si si attenta eh via soffia forte bravo bravo fa fu un'altra volta l'accendiamo un'altra volta la fragolina si il cuoricino quel bacino dai 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 la fanno tagliare senti com'è no no è la panna senti com'è quel ditino qui così ma ci vedranno i piatti perchè se li sento eh non è piatti bella bella sia ce ne accendi più che altro non fa saltare il lampadario proprio per quello perchè vedi questa rifà gialla si ma ora le cambiamo ora le facciamo cambiare se non ci vedevo che ci metterò questo è gialla la bumba come fa bumba 1 2 3 1 2 3 viva evviva 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 l'avete mangiata l'avete mangiata questa cioccolata si tieni bevi bevi no questa non gli piace a lei per le messe vieni aspetta che ti pulisce ti do da bere le manine appiccicose no 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 chi si è avvegliato questa bambina pomigliona aspetta ma glielo fai vedere alle tate questo ciuccio questo ciuccio bello piccinino che piange amore ma non piangere così mira con l'occhini bello 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 eccoci a casa ragazze si fammi vedere tutti si si allora ragazzi niente sono a casa io ora mi voglio rilassare ho messo in carica il video di ieri della vigilia mi voglio rilassare con questo programmino che mi hanno regalato programmino questo aggeggino mi hanno regalato Lallo e le ragazze Briciola ti puoi mettere il like l'altra posizione che volevo salutare tutti allora allora un aggeggino che mi piaceva da tanto tempo che dal cellulare posso guardarmi i video posso guardarmi le cosine sulla televisione così non mi mi sciupo gli occhi lì al cellulare che magari non ci vedo nemmeno ecco e mi hanno regalato anche leone mio ciao leone vieni qua amore no ci vuole venire e niente vi auguro ancora un buon Natale e ci sentiamo domani che è il compleanno di Chica Santo Stefano e il compleanno anche della Michichina e ci sentiamo e ci sentiamo